Una rivisitazione del PUC per esaltare il tessuto urbanistico della città di Salerno, lasciando inalterati gli indici informatori senza incrementare gli insediamenti abitativi. Una vera e propria azione di assestamento del territorio. Così l'assessore all'urbanistica del Comune di Salerno, Mimmo De Maio, commentando il nuovo piano urbanistico del Comune di Salerno presentato ieri, che potrebbe arrivare all'esame del Consiglio Comunale in primavera. Uno strumento che darà un nuovo slancio turistico alla città, mentre intanto si valutano le offerte delle ditte che hanno risposto al bando per il completamento dei lavori di Piazza della Libertà. Si conta, in questo caso, nel giro di un anno, per l'assessore De Maio, di avere la piazza con 750 posti auto che darà respiro alla città, consentendo una rimodulazione urbanistica complessiva intorno alla stazione marittima. Siamo in una fase di formazione della rivisitazione del piano regolatore, del piano urbanistico comunale, perché siamo nella fase dell'adozione, cioè della proposta che la Giunta fa al Consiglio, quindi nella fase dell'adozione, perché in questa fase adesso si apriranno il periodo delle osservazioni, 60 giorni, nei quali tutti potranno dare il proprio contributo, osservazione a quello che il piano prevede, che fondamentalmente è una rivisitazione per fare il punto della situazione di attuazione del piano. Per sottolineare quali sono le direttrici sulle quali bisogna continuare l'attività di trasformazione, immagino per esempio tutte le attività finalizzate a rafforzare le opportunità turistiche, è un elemento fortemente consolidato ormai nella nostra città, poter essere una realtà che dal punto di vista dell'attività turistica si pone all'attenzione nazionale, a spieghiamo internazionale, c'è nel contempo un ridimensionamento del peso insediativo, cioè del numero degli insediati, alla luce di quelle che sono le considerazioni che abbiamo fatto in questi anni, di quello che si è attuato, degli scenari che ci sono davanti a noi e in particolar modo poi il PURC prevede l'individuazione dell'area nella quale dovrà insistere la nuova città ospedaliere, il nuovo ospedale di Salerno, che è un'iniziativa della Regione che noi recepiamo come indicazione e quindi dovrà trovare conformità all'interno del piano che stiamo rivisitando. C'è quindi una rivisitazione di alcune aree, un cambio di destinazione, una valorizzazione di alcune zone della città, che cosa ritroveremo? Nuovi insediamenti abitativi? No, lo dicevo prima, i punti salienti del piano, i limiti della città compatta, l'istituto per equativo, la logica dei comparti rimane. Abbiamo individuato e accolto delle indicazioni per alcuni comparti che casomai non trovavano attuazione e quando la totalità dei soggetti attuatori ha espresso manifestatamente che questa cosa poteva essere condivisa senza inficiare alcune aree e ambiti della nostra città, l'abbiamo potuto condividere e questo ci ha consentito un ridimensionamento del peso insediativo che il piano conterrà, cioè avremo un numero di insediati che è minore di quello che avevamo previsto nel piano che rispondeva ad un trend, ad una logica che nasce nel 2006. Oggi abbiamo fatto il punto di quello che è stata l'attuazione fino ad oggi, abbiamo raccolto quelle che erano le istanze che potevano arrivare dal punto di vista dell'attuazione da parte di alcuni soggetti e dove abbiamo potuto ritagliare aree, cioè eliminare aree nell'ambito di trasformazione, lo abbiamo fatto. I tempi affinché il Consiglio Comunale possa approvare il nuovo PUC potrebbero anche non essere brevi, sono più brevi invece i tempi per poter realizzare Piazza della Libertà? In questo momento c'è la Commissione insediata che sta valutando le offerte fatte dalle ditte che hanno concorso al bando. Io mi auguro che tutti abbiano perlomeno presentato dei tempi contingentati, era una delle opzioni che il bando prevedeva, quindi ridurre, quindi arrivare a circa un anno di lavoro per poter avere la piazza in piena fruizione, quindi il nostro auspicio è che entro la fine del prossimo anno di poter avere la piazza che è non soltanto un intervento al di sotto del quale ci sono 750 posti auto, che è una grande opportunità, un respiro per tutto il centro storico e questa parte della città, ma anche un intervento di riqualificazione complessiva se lo immaginiamo collegato alla stazione marittima, all'intervento di riqualificazione che in questo momento è in corso intorno alla stazione marittima e quindi il completamento di un ambito sicuramente tra i più significativi della nostra città. Grazie a tutti.